Dottor Roberto Fini, Associazione Europea per l'Educazione Economica, vorremmo chiederle quanto è importante il ruolo o la funzione dell'educazione economica per migliorare le decisioni da prendere per il futuro? Beh, ovviamente non posso che dire che è molto importante, è molto importante anche perché ce n'è poca. Se parliamo del livello scolastico, un'area disciplinare che in qualche modo sia di tipo economico, sociale o aziendale viene fatta solo nel 15% degli studenti, cioè le vecchie ragioneria e i nuovi dice economico-sociali, il che ovviamente significa che tutto il resto è completamente a digiuno di problematiche di tipo economico. Si aggiunga a questo il fatto che al di fuori della scuola poco c'è, anzi potremmo dire che non c'è nulla, la gran parte delle informazioni economiche vengono veicolate attraverso il mezzo televisivo e per forza di cose è superficiale, quando anche non è sbagliato il messaggio comunque è necessariamente superficiale, il resto è per definizione poco efficace.